La salute arriva direttamente in piazza con l'iniziativa Abruzzo in Salute e promossa dalla regione Abruzzo della ASL della provincia dell'Aquila. Dal 3 al 10 agosto in piazza Nazario Sauro a Prado la Peligna, un poliambulatorio mobile sarà a disposizione dei cittadini dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 offrendo una serie di servizi sanitari gratuiti e fondamentali per la prevenzione. Il programma destinato agli assistiti dell'ASL Avezzano Sumona l'Aquila include mammografie, pap test, consegna di kit per la prevenzione del colorretto, controlli per nei sospetti, elettrocardiogrammi, spirometrie. Questi servizi sono offerti in modo spontaneo, non è necessaria la prenotazione. Tuttavia è fondamentale che gli utenti portino con sé la tessera sanitaria in un documento di riconoscimento. Abruzzo in Salute parte di un più ampio sforzo regionale volto a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione sanitaria e garantire un accesso agevolato ai servizi di cura. Le autorità sanitarie locali esortano i cittadini a cogliere questa opportunità sottolineando come la prevenzione sia un pilastro fondamentale per una vita sana e lunga.